Si intitola Natale in galleria ed è la mostra dedicata appunto al Natale che si tiene presso la galleria Ielasi. Ne parliamo con il padrone di casa. Allora, quali sono gli artisti che vengono esposti? L'artista è uno solo, è Raffaele Iacono praticamente. Infatti il titolo della mostra è Il Natale secondo Raffaele. Quindi lui ha dato una sua interpretazione del Natale con quadri che secondo me sono straordinari. Non saranno subito capiti perché non è lui un pittore molto facile da intendere. Però se uno è dotato di un certo spirito di religiosità capirà sicuramente i quadri. Ecco, per esempio parliamo di quest'opera che è qui sulla nostra testa. Questa è la nostra testa, in effetti vuole rappresentare lì, quella lì rappresenta la capanna con il bambino Gesù, queste cose qua. Questa qua vuole rappresentare proprio la capanna in tutto, in toto, cioè praticamente è come se fosse la grotta. Ci sono delle, se si vede, si vedono delle guglie che vanno verso l'alto, un po' che si rifà un po' l'architettura gotica, il gotish, no? Verso Dio e quindi questo ha un significato molto religioso. Invece questi quadri molto colorati, di questi colori caldi, che cosa rappresentano? Questi quadri rappresentano alcune parti, appunto una delle interpretazioni di Iacono, della fuga in Egitto, dei re magi, quindi ognuno ha un suo titolo. Se si vede bene in particolare si riescono a vedere anche, ad esempio, questo qua che rappresenta la fuga in Egitto, si vedono le tre piramidi dell'Egitto e quindi il significato è poi da, come si dice, bisogna tirare. Sì, subito si dirà la storia. Qual è lo stile, come si può, diciamo, chiamare lo stile di questo pittore? In quale corrente si può iscrivere? Ma lui si barcamena tra la neofigurazione e l'astratto, questo è il modo di esprimere di Raffaele. Però in effetti non esiste, secondo me, un modo di definire la pittura di Raffaele perché non è molto semplice, anche se sembra semplice, ma non è molto semplice. Però se si riescono a capire gli elementi base della sua pittura i quadri sono di una facilità incredibile. In ultimo ricordiamo gli orari in cui è possibile visitare la mostra. Dalle 6 alle 9 di sera perché purtroppo è inverno. Poi il sabato e la domenica sono anche la mattina, così naturalmente anche la mattina di Pasqua, di Capodanno, sono sempre presenti. Fino a quando sarà? Fino al 6 gennaio.